Il comune è impegnato sia sul tavolo delle trattative sia per sostenere tutte quelle che sono le iniziative amministrative per la riconversione del sito. Il nostro Assessore Lieto è impegnato per la parte amministrativa, l'Assessore Marciani sta seguendo la vertenza, io sto seguendo con il Governo nazionale e con le istituzioni locali questo tema perché credo che noi dobbiamo dare un futuro al sito della Whirlpool.